benvenuti ad un nuovo appuntamento in compagnia di fratello francesco zambotti sacerdote bentrovato ben trovati anche voi sulle rive del grande fiume del fiume po che ci fa da scenario naturale a questo nostro approfondimento in questo spazio in cui andiamo alla ricerca settimanalmente di parole pensieri consigli e messaggi che ci possano aiutare anche nella vita di tutti i giorni lo diciamo sempre darci un sostegno uno spunto un appiglio a cui aggrapparsi per continuare magari trovare quella speranza che a volte sembra venire un po' meno sì il nostro leitmotiv è la speranza e la misericordia sono due elementi per me molto importanti la misericordia che mettersi nella posizione di accogliere profondamente l'amore di dio che concretamente giunge fino a noi per il sostegno per illuminare la nostra vita la nostra mente i nostri affetti le situazioni particolari ponendo insieme anche l'intelligenza l'educatività tutto ciò che il nostro capitale interiore e anche culturale e quindi questo è una cosa molto bella la speranza è l'altra dimensione del riuscire a carpire accogliere la dimensione di un dio che si trasforma per noi in pane di ogni giorno un pezzo di pane per ogni giorno e nessuno morirà invece sappiamo che ci sono tante persone che non hanno nemmeno un pezzo di pane e che quindi moriranno specialmente i bambini e questo è un peso sulla nostra coscienza di persone che in qualche modo mirano ad avere non solo lo stretto necessario ma anche sul plus della realtà del nostro vivere con cose di lusso eccetera quindi questo sono un peccato che grida vendetta al cospetto di dio proprio perché questi bambini non hanno colpa di non avere un pezzo di pane e noi scartiamo buttiamo via un sacco di cose questo come dice Papa Francesco è un delitto la sofferenza a padre Francesco la tocca possiamo dire quotidianamente con le realtà delle sue comunità lui è lo storico fondatore delle tende di Cristo che sono dei centri in cui a braccia aperte vengono accolte le persone con le problematiche più diverse bambini compresi sì noi facciamo questo perché io ho percepito nella preghiera allo spirito santo ho percepito tutta questa dimensione di mettere tutta la mia vita in questa disponibilità di accogliere queste persone per cui abbiamo una ventina di comunità per cui abbiamo organizzato di mettere i bambini con i bambini i tossicodipendenti e alcool dipendenti in comunità specifiche i malati dei DS in altre comunità specifiche e abbiamo cercato di non dire mai di no possibilmente a nessuna delle persone che ci chiedono un aiuto questo è un dono che il Signore ha fatto a me e che io in qualche modo tento di rispondere a questo dono mettendoci tutte le mie forze la preghiera e la mia capacità di condivisione ha aiutato certamente da tanti volontari, da tante persone che stanno facendosi carico nelle varie comunità di questa dimensione dell'aiuto al più povero per continuare questo nostro appuntamento andiamo con il permesso naturalmente di Padre Francesco a leggere i suoi pensieri, le sue poesie, le sue preghiere che in questo caso sono state raccolte in un libro che si intitola Soffio di luce e che sono questi scritti che vengono messi nero su bianco nei momenti più diversi della giornata ma in particolare quale a volte? al mattino quando mi alzo per pregare sono solo, non sono disturbato allora io medito e cerco di lasciarmi invadere da Dio e quindi normalmente mi viene da scrivere un pensiero che metto giù nero su bianco diciamo così perché diventa un'esigenza dello spirito questa leggiamo insieme allora uno di questi pensieri fiori di campo sono i miei pensieri e la lode ha il colore del giorno sempre nuovo presso il tuo altare fiori di campo rivolti al cielo, contemplazione alla mente creativa fiori di campo gioiosi colori vestiti a festa nella danza dell'umiltà e dell'amore questo pensiero è piuttosto poetico ma la poesia non è contro Dio diciamo questi fiori di campo, io amo molto i fiori di campo quando vado poi nei miei paesi ma comunque un po' dappertutto specialmente sulle Alpi noi vediamo che questi prati in fiore che nel quale emergono tanti tipi di fiori di vari colori eccetera io sono in mezzo a questi e penso di essere un fiori di campo piccolissimo che però il Signore a un certo momento è venuto e ha preso, si è preso nelle sue mani e poi mi ha ispirato a fare qualcosa quindi i fiori di campo per me sono qualcosa di misterioso, di bello, di grande perché è bello vivere questa dimensione della semplicità, anche dell'umiltà diciamo e quindi questi pensieri diventano lode e prendono il colore sempre nuovo presso l'altare nel momento in cui l'altare come celebrazione eucaristica oppure anche come diciamo così momenti davanti a Lui dove più che pregare con le formule lascio che lo Spirito preghi dentro di me allora qui l'altare diventa il punto di riferimento per me e per tutti quelli che mi incontro sulla mia strada quindi questi fiori di campo che sono rivolti al cielo quindi diventano una contemplazione creatrice dentro di me ancora fiori di campo gioiosi, colori vestiti a festa nella danza dell'umiltà e dell'amore diventa allora tutto questo entra e fa parte della nostra vita di chi si pone in questa dimensione della semplicità dell'incapacità anche di essere noi da solo non siamo capaci di fare nulla però con l'aiuto del Signore noi possiamo effettivamente far gioire le persone dare lampi di felicità e qualche cosa che le fa sentire certamente vive e compartecipi con il Dio che è nascosto ma che è dentro di loro e con questo messaggio di Padre Francesco noi ringraziamo per primo Lui per essere stato con noi grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito e arrivederci arrivederci alla prossima